Ebbene sì! Ebbene sì, me lo avete chiesto a gran voce E sono qui per andare a simulare tutta la serie A 2022-2023 Su FIFA 23 per vedere, secondo il gioco, chi sarà il campione d'Italia E poi sono curioso di riprendere sto contenuto a fine campionato per vedere se ci hanno azzeccato E vi saluto immediatamente se non mi scordo, ciao e bello a tutti da me Vi ricordo di lasciare mi piace Supportate questo genere di contenuti Posso simulare altri campionati Anzi consigliatemeli qui sotto nei commenti Non vi chiedo un numero minimo di mi piace Ma fatemi vedere tutto il vostro supporto Se volete appunto altre simulazioni Iscrivetevi, scusate parlo veloce Iscrivetevi e attivate la campanellina Per ricevere sempre le notifiche in tempo reale sul cellulare Ogni volta che pubblico qualcosa C'ho un altro canale YouTube di calcio Se non volete perdervi nemmeno un mio contenuto calcistico I canali appunto sono due C'ho pure un canale YouTube extra calcio Ieri ho spacchettato la spesa Non potete capire quello che ho combinato Detto questo, tutti i canali in descrizione Compariranno qui durante il video TIE! Immediatamente Tornei nazionali Campionati maschili Andiamo a cercare la serie A Se la troviamo League 2, League 3, League 4, League 5, Bundesliga Eccola Serie A Team Ovviamente ragazzi Non me ne vogliate Ma mi vado a prendere la S Roma E vado avanti Quindi simuliamo questo campionato con la S Roma Ma in realtà andremo poi a vedere Quello che succederà a tutte le altre squadre No? Quindi Allora Io direi di andare rapidissimamente avanti E come al solito Quando mi vado a giocare le partite Magari i momenti clou No? Però se volete possiamo fare Un altro contenuto Dove andiamo a giocare Proprio solo I momenti clou No? E andiamo a simulare Tra virgolette Il tutto Io faccio simulazione Roma-Inter Alla prima giornata E 18-20 agosto 2023 Per demo Simulazione però Per me per demo Vediamo eh 2-2 Vano Laudalo Abram Zagnolo e Gosens Prima giornata Di serie A Devo dire Dai Non è andata poi così male Andiamo avanti Perché c'è la seconda Di serie A Che dobbiamo ovviamente simulare E preparatevi Perché Giochiamo col Torino E vinciamo 1-0 Secondo me Proprio Una cosa rapidissima 1-3 Addirittura Zaleschi Abram Sanabria E Paolino Di Bala Il nostro caro amato Paolino Di Bala Che alza il livello Della nostra Roma Da questa stagione Dice Ma sei rotto Vabbè In questo momento In cui sto registrando Si riprenderà Giochiamo la terza Di serie A Andiamo a simulare Roma-Lazio 1-1 1-1 Mi sento 1-1 2-0 Oh Abram Abram Cataldi Espulso Al minuto 29 Ma dopo Tre giornate Questa Roma Giampar The big match Da quegli Esagerated Stiamo facendo Secondo me Cose importanti Ci simuliamo Anche la partita Eh L'Udinese Però La grande Udinese Vinciamo 1-0 Simuliamo Anzi 1-2 1-2 1-2 De Uno Feuma Segna praticamente A partita terminata Ancora Di Bala Doppietta Di Paolo Di Bala Ma che cosa Stiamo facendo Detto questo Mo La classifica A giornata Ve la faccio vedere Alla giornata A metà A girone d'andata Se mi ricordo Gioca partita A quarta A quinta Allora Simula partita Questa 3-1 Anzi 2-0 2-0 Mi sento 2-0 Preparati 3-0 Velotti Zagnolo E Pellegrini In questa Roma Stanno segnando Perlomeno per il momento Praticamente Tutti O comunque In tanti Andiamo alla giornata Successiva Di Serie A Perché io mi vado a giocare Immediatamente La partita contro il Monza E vi dico Vinciamo 0-2 Simulazione veloce Sostituisce automaticamente Perché se no Ogni volta ci mettiamo 787 anni 1-2 Che avevo detto Non mi ricordo Vabbè Abram è cristante Ma passa in vantaggio In Monza Con Ciurria Ma l'importante Era vincerla Questa partita Grande Grande atteggiamento Da parte dei Giallorossi Ci giochiamo Un'altra partita Ragazzi Quindi preparatevi Perché contro il Lecce Vinciamo 3-0 Sono sicuro Sono convinto O perdo 2-1 Va bene uguale 3 gol totali Li avevo previsti Abram di bala E pezzella Ma l'andamento In Serie A Di questa Roma È veramente Un qualcosa di Non mi fate parlare Vado Partita successiva Napoli E arriva la prima sconfitta 1-0 E' successo veramente Lo vodka Mannaggia la miseria Pensavo che eri seria Andiamo avanti Non mi arrendo Perché la cattiveria del Gabon La conosciamo tutti quanti Ci giochiamo Questa contro la Fiorentina Dico 2-1 Per la Roma C'è per ecco No pareggio No pareggio No pareggio Ragazzi lo sapevo Pensavo O 2-1 O 2-2 Di bala di bala Buonaventura Il Barak Barak Che dir si voglia Rallentamento Della Roma Nelle ultime due Di campionato Ma Contro l'Atalanta Facciamo 1-1 Contro l'Atalanta Facciamo 1-1 Ragazzi 1-2 Bono Pellegrini Gol Espulsione Poco dopo Marinowski Tammi Abram Stiamo Riprendendo Una corsa Che secondo me Ragazzi È abbastanza Importante Siamo al 30 ottobre 2-0 Col Bologna Per me Si dai 2-0 Col Bologna Archiviamo La prat La pratica Questa è una battuta Dal resto Che non ci voleva Assolutamente Contro una squadra Abordabilissima E qui 1-2 Roma Se pareggio Perdi pure questa Mamma mia Ragazzi Abram Abram Di A Castagnos Abram Come in realtà Abram Sa segnare Per niente Qua sa fa Goll a fiotti Va benissimo L'importante Era vincere E 2-1 Non noi 1-2 Vincia il Milan 1-2 Scommettiamo 2-2 Bono Bono Contro il Milan Campione d'Italia Di bala Di bala Leao Pupiga Ottimo L'importante Contro le big E non perdere Andiamo avanti E poi macinare Ovviamente Punti Contro Qua Dico 1-2 1-2 Zagnolo 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 Abram Smalling Un'incetta Di reti Ed archiviamo La pratica Sassuolo In casa Loro Senza alcun problema Qua dico 3-0 Secco Netto Veloce E non 4-1 Di bala Belotti Castagnetti Di bala Di bala Ma che cosa Stiamo facendo Ma il potenziale Offensivo Di questa Roma Veramente Raga Ma cosa Ca Empoli Dico 0-2 0-2 Sono 1-4 Di bala Carsdorp Lambers Di bala I bagnez Ma tra Di bala Abram Ragazzi Stiamo vedendo Veramente Non lo so io Ma una marea Di reti E Contra io In casa 2-2 2-2 2-2 Si 4-100 Mamma mia Beccato Di bala Vlaovic Zagnolo Locatelli Ma state vedendo Quello che stiamo Combinando Ma state vedendo Non posso immaginare La situazione Di classifica Ma Ma Giochiamo partita Roma-Sandoria 2-0 Per la Roma A mio modo di vedere Posa e me sbaglio Pazienza Pronti 3-2 Mamma mia Berzischi Abram Abram Murru Di bala Sempre loro Ragazzi Sempre loro Andiamo alla successiva Perché adesso Iniziano a farsi Interessanti Le cose Stiamo macinando Vittorie Simuliamo 1-2 Roma 1-3 Roma Spinazzola Spinazzola Ilic Spinazzola Tripletta di Spinazzola Contro il Verona 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 La Verona Non me lo sarei mai aspettato Ma ragazzi Ma Siamo già al girone Di ritorno Eh sì Praticamente Sì E qui Vediamo la situazione Di classifica Al girone Di andata Per Prima Iu a 49 Seconda La Roma A 43 Però 20 giornate giocate Inter A 40 Udinese 36 Come nella realtà Lazio 35 Napoli 35 Ma Milano Così indietro 34 Fiorentina 31 Sampdoria 31 Atalanta 31 Sassuolo 27 Torino 26 Bologna 23 Spezia 18 Verona 16 Empoli 16 Cremonese 15 Salernitana 12 Lecce 12 Monza 11 Ma che strana Classifica Di serie A Statistiche giocatori Non ve le faccio vedere Vi tengo sulle spine Ci andiamo a giocare Il ritorno Quindi contro Napoli E qui facciamo 1 a 1 Qui facciamo 1 a 1 Non andiamo Oltre 2 a 0 Abram E Di Pala E Osimène Ragazzi Mamma Osimène ovviamente 0 per il Napoli Avete visto tutti quanti Detto questo Partita successiva Giochiamocela contro Il Lecce Questo non può che essere Un 0 2 per la S Roma O perlomeno me lo auguro 0 2 Ma quanti ne sto a beccare Zagnolo Abram Nel frattempo Mese Stava a spegne il monitor Mese Stacca l'audio Poi succede il macello Andiamo ulteriormente avanti Perché Ho cattiveria Ho voglia E non pensate a male Di vedere La prossima partita Contro la Sampdoria 0 a 1 Per la Roma Questa De Orto Muso De Ortissimo Mamma mia 2 a 3 Augello Abram Mancini Ah Di Pala Ma Di Pala Però segna E va bene così Vinta un'altra partita Importante Tramorosa comunque La classifica De Serie A Se ripenso Ovviamente Questo potrebbe essere Un scontro diretto Alla No Vincono loro Vincono loro ragazzi Vincono loro 1 a 2 Ah 2 a 1 per noi 2 a 1 per noi 2 a 1 per noi Però io ho detto Vincono 1 a 2 Quindi inconsciamente Lo sapevo Pellegrini di Pala E Paredes O Paredes Gol dell'ex Tra l'altro È abbastanza attendibile Perché succede Molto molto spesso Successiva Col Sassuolo 2 a 0 Va bene Non fa niente 2 a 0 2 a 0 per noi 2 a 0 sì Ma tu non mi puoi vincere Con la Juventus E poi mi perdi Col Sassuolo In casa In trasferta D'andata C'hai vinto Ma Se buonanotte Milan-Roma Simula Vincono 2 a 0 loro 2 a 0 loro Sicuro 0 a 1 0 a 1 Zagnolo 0 a 1 Zagnolo E oh E comunque Dice vabbè Hai perso Però hai vinto Col Milan Quindi va benissimo Così Con l'Udinese Vinciamo Vinciamo 2 a 1 2 a 1 Me lo sento 2 a 1 Me lo sento All'89 Success Success SELIC Noyen E Zagnolo Mannaggia La miseria Altra battuta Dal resto Che non ci voleva Assolutamente Andiamo avanti Andiamo avanti E giochiamo partita Attenti perché C'è il derby E in casa Loro Tra virgolette 2 a 2 2 a 2 No non perdiamo Oh mamma mia No Pedro Romagnoli Felipe Anderson Di Bala Non ci voleva Ragazzi Non ci voleva Ragazzi Non ci voleva Ragazzi Roma Empoli 3 a 0 3 a 0 Secco Secco 4 a 1 Zagnolo destro Di Bala Smalling di Bala Ovviamente Il primo gol Avviene al 22esimo E quello di Bala sotto Ma io li leggo In base a come li Li trovo Ok Ottima vittoria Per come si stava A mettere Il giro d'andata Insomma Si può sperare In qualcosa Cremonese Roma 1 a 2 Per noi 1 a 2 Per noi Dai 2 a 3 Va bene uguale Di Bala Abram Karsdorp Pickel E buon aiuto 2 a 3 E questi sono punti pesanti Sono punti pesanti Perlomeno in ottica Champions League Giochiamo con la Salernitana E io dico 2 a 1 Roma Un gollo ce lo fanno 3 a 1 Candreva Velotti Sempre Candreva Velotti Spinazzola Abram Va benissimo Così E andiamo Alla successiva E cattiva Partita Che se sono rimaste Perché mi sa che sono quasi finite Bologna Roma Sempre 1 a 2 Per me 1 a 2 Roma 1 a 3 Zagnolo Pellegrini Pellegrini Con Musa Barrow Ma non serve a niente Ovviamente il gol di Musa Barrow Andiamo avanti Quante partite saranno rimaste Ma veramente poche Contro l'Atalanta Facciamo 1 a 1 Secondo me Non più di 1 2 a 1 Mamma mia Cristante Abram E Zapata Che li aveva portati In vantaggio Ma che cosa Sta succedendo Gioca partita contro la Fiorentina E qua mi sento un pareggio Mi sento un 2 a 2 Mi sento un 2 a 2 Ragazzi No Cabral Barac L'ha segnato all'andata E a ritorno Non ci voleva Non ci voleva minimamente Contro il Torino Io ipotizzo Un 2 a 1 2 a 1 Roma dai 3 a 1 Di Bala Di Bala Abram Ma quanti gol stanno a fare Di Bala e Abram In tandem Veramente tantissimi E E Perdiamo 2 a 1 Perdiamo 2 a 1 Mamma mia 2 a 0 Abram Abram Non ce posso crede Ci sono delle vittorie Che mi fanno pensare Ripensando E scusate il gioco delle parole Alla classifica iniziale A A qualche ambizione 2 a 0 2 a 0 2 a 1 Zagnolo Abram Her Thierry Ah no Herry Ma non è Thierry Perché Non gioca più Da una vita Bene Siamo arrivati a Roma Monza E qua te dico 3 a 1 Senza se Senza mammo Ce ne fanno 8 Non ce credo Non è possibile Caprari Non è possibile Ma non puoi Perde col Monza Con tutto rispetto Per il Monza Ma vinci Con altre squadre 3 a 1 Roma Simulazione 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 2-3 Matic Zagnolo Strelez Di Bala E Reza Reca Chiamatelo Come vi pare Mamma mia Finito ragazzi E' arrivato Il Ah ho visto Scudetto L'ho pensato Associato Ha vinto La Roma Partiamo dalle statistiche Dei giocatori E vediamo Quanti gol Sono stati fatti E poi ovviamente Andiamo A chi ha vinto Lo scudetto Lautaro Martinez 27 gol In 38 partite Di Bala 25 gol In 37 partite Abram 23 gol In 38 partite Osimena 22 gol In 37 partite Chiesa Ovviamente Perché non lo considera Scudetto 22 gol In 38 partite Blaovic Idem Cioè i stessi gol Lukaku 21 In 38 Immobile Solo 20 Strano Per la Lazio 20 in 36 Beto 19 Di A 17 Zapata 16 Sanabria 16 Arnautovic 15 Petagna 15 Caputo 14 Gosens 14 Traore Quaraschelia 14 Muriel 13 Deulofeu 13 Zagnolo 13 Magari Gonzalez 13 Giroud 12 Pasalic 12 Jovic 12 Sarebbero contenti I tifosi della Fiorentina Chiesa 13 Assist Saponara 10 Immobile 9 Muriel 9 Barella 9 Piontek 8 Manca Milinkovic Savic Che nella realtà N'ha fatto già 146 E qua non risulta Proprio Carina Simpatica Come cosa Vabbè Non è che può essere Attendibile al 100% Detto questo È arrivato il momento Clue Ragazzi Quello che tutti voi Ah ci stanno i reti inviolate Autero 12 reti inviolate Casa Andoria Andanovic 10 consigli Skorutsky Megnano Escesni Rui Patrizio E via via Tutti gli altri Lo vedete In chiappi In pressione Cartellini gialli Smalling Cartellini rossi Selmegar Addirittura 3 È arrivato il momento È arrivato il momento Ragazzi Di decretare No aspetta No aspetta No aspetta Non è possibile Ragazzi Secondo FIFA 23 La Roma vince Lo scudetto A pari punti Con la Juventus Però lo vinciamo noi 27 vittorie 5 pareggi 6 sconfitte 85 gol fatti 46 subiti Juve Inter Milan e Roma In Champions League Quindi Terza Inter Quarto Milan Ma guardate Che differenza Punti Col Napoli Buttato fuori Dalla Champions League Se la prende La Roma Ma magari fosse Detto questo Atalanta Sesta A 68 Lazio Settima A 64 Sampdoria Ottava Sampdoria Ottava Fiorentina Nona Udinese Decima Sarebbe comunque Il campionato Sta facendo Nella realtà Bologna Undicesimo Sassuolo Dodicesimo Torino Tredicesimo Monza Addirittura Quattordicesimo Era ultimo Nel girone D'andata Cremonese 15 Spezia 16 Salernitana 17 Ma chi è il retrocesso Empoli Retrocesso A 29 Verona Retrocesso A 26 E ultima Il Lecce Addirittura Ragazzi Sarebbe un qualcosa Di clamoroso Dati alla mano Secondo questa simulazione Io non lo so Guarda Succede veramente Non so quello che succede Qualcosa è possibile Grazie per la visione Mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi a tutti i canali Sociali in descrizione Contenuti consigliati Alla prossima Con un nuovo video Ciao Ciao raga Vado che fegno Ciao Ciao